Una nuova proposta per abolire le incompatibilità presenti nel sistema elettorale italiano che impediscono ai sindaci di accedere al Parlamento. E' l'idea lanciata dal Forum degli Enti Locali, convocato a Napoli da Asmel, la combattiva associazione nazionale di oltre 2200 comuni italiani, che a tutela del valore delle autonomie locali, è appena riuscita a portare dinanzi alla Corte Costituzionale la legge che impone l'accorpamento obbligatorio dei comuni. Un'idea che nasce come antidoto ai mille gangli delle norme e della burocrazia che non imbrigliano più solo le realtà produttive, ma anche le istituzioni, a partire da quelle più vicine ai cittadini, i comuni. Un sistema ingarbugliato che spesso si trasforma in un micidiale veicolo di corruzione, come ha evidenziato di recente anche il presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, che ha indicato nelle pastoie dell'iperregolazione la principale causa della diffusione della corruzione. Ecco allora la proposta di Asmel, illustrata dal suo segretario generale Francesco Pinto. Sempre più complicazione, sempre più difficoltà, tutto questo perché le leggi vengono scritte non più dai parlamentari, i quali danno le leggi delle che poi lasciano a decreti legge, decreti legislativi, eccetera, scritti dai mandarini, il compito di dettagliare le norme. Noi riteniamo che la cosa migliore a questo punto è far sì che in Parlamento vadano i reali rappresentanti del territorio, gente che tutti i giorni combatte e si afferma sul territorio, una classe dirigente attiva, che sono i sindaci e gli amministratori locali. Solo in Italia c'è l'incombatibilità tra sindaco e parlamentare. Invece di pensare al sistema tedesco, in questi giorni si parla di modifica della legge elettorale, si potrebbe guardare al sistema francese che invece prevede che ci sia coabitazione tra sindaci e parlamentari nella stessa persona, senza accumulare le indennità ma soltanto le cariche. Avremo gente più rappresentativa dei reali bisogni della gente. Il tour Rappalti 2017